Il nostro primo piano, abbiamo accennato prima della pausa pubblicitaria, parliamo delle nuove generazioni, dei nostri bambini, lo facciamo spesso in questo nostro spazio alla luce anche delle discussioni che ci sono a livello locale e nazionale per i nuovi diritti. Allora oggi vogliamo, abbiamo preso l'esempio sulle infrastrutture di quello che accade a Pescia, vogliamo raccontare una storia che arriva dalla provincia di Arezzo dalla frazione di Levane, tra l'altro un paese a cavallo tra due comuni dove si trova una grande comunità di bambini che provengono dall'India. Siamo a pochi passi, di fatto nel distretto produttivo della moda che tanti problemi sta avendo, dove insiste soprattutto l'insediamento di Prada e allora tutto il mondo della pulimentatura viene portato avanti da cittadini di origine indiana e le nuove generazioni, nuovi bambini vanno ovviamente a frequentare quell'istituto scolastico con però dei problemi, dei casi da raccontare sul fronte proprio dell'integrazione e anche della lingua. Allora si sta portando avanti un progetto particolare, Greta. Esatto, intanto appunto questa percentuale di bambini appunto di origine indiana è molto alta, ci raccontava, diamo qualche numero preside. Sì, allora intanto buonasera a tutti, un 20%, un 22% sulla primaria di Levane è un riferimento alle famiglie indiane, ma voi considerate che non sono soltanto famiglie indiane, di etnia bengalese, pakistana, quindi cominciate a sommare anche tutti quegli apporti, allora uno si comincia a chiedere, ma allora dice le etnie che purtroppo, perché purtroppo bene che ci siano queste etnie, però etnie che fanno riferimento all'università umanitaria arrivano anche a raggiungere un 30-40%. È la realtà della mia scuola, nella primaria di Levane, le ripeto, solo con riferimento alle famiglie indiane siamo un 22%, nelle famiglie alle infanze siamo un 20%. Io è vero che mi raccomando sempre con i miei insegnanti e il personale, primo impegno, primo obiettivo quando una famiglia si iscrive in una scuola, iscrive i propri ragazzi in una scuola, è quello di far conoscere il regolamento dell'istituto, perché se una famiglia non conosca come funziona la scuola, con gli orari, con tutto il funzionamento, con tutta l'organizzazione, è ovvio che questo poi crea un motivo di disagio, un disagio per la famiglia che rimane fuori. Allora non è un percorso inclusivo quello che si realizza, perché la famiglia, ripeto, sensazione di non chiarimento, di desiderio di approfondimento, su questo insisto particolarmente, se da parte mia o da parte dei miei collaboratori, però ecco, per farla breve, mi viene in mente Brocardo... La barriera più importante è la lingua, la lingua italiana. Mi viene in mente Brocardo Latino, dice ignoranza legis non excusat, è ovvio che tante famiglie indiane, nel momento in cui si trovano anche dal nostro sito ad approfondire il regolamento dell'istituto, il funzionamento del POF, il curriculum della scuola, si trovano a rese. E allora ecco, è così, l'iniziativa che io ho pensato insieme ai miei insegnanti, ai miei collaboratori, è un'iniziativa che tiene conto, ripeto, di quello che è il bacino utenza della scuola. La scuola deve leggere innanzitutto il bacino utenza. Il bacino utenza dice che un ragazzo su cinque, anche qualcosa di più, nell'infanzia è di provenienza indiana. E ripeto, tenendo conto delle altre provenienze cinesi e altre etnie, e quella percentuale sale anche a un 30-40%, allora la scuola ha il dovere di favorire il percorso comunicativo, l'inserimento corretto, ma proprio perché l'inclusione prevede sia un impegno da parte certo di chi si inserisce, ma anche di chi lo accoglie. Ecco, voi incontrerete queste famiglie proprio domani mattina. Esatto, c'è questa iniziativa che io ho organizzato insieme ai miei insegnanti domattina, uno spazio apposito, che noi riserviamo un momento nel quale diamo la possibilità a tutte queste famiglie, che purtroppo si trovano in difficoltà alla loro lingua, facendo leva su un intervento di mediatori che possono tratturre la loro lingua, dare la possibilità a loro di fare anche domande, quello che non è chiaro, quello su cui hanno un dubbio. Tutti i dubbi legati al funzionamento. Perché, ripeto, questo mette una famiglia nelle condizioni di soffrire al meglio del servizio, di educazione, di istruzione. E ovviamente fa sì che ci sia un setting a favore del bambino, perché alla fine l'obiettivo nostro è quello di fare in modo che quel bambino si trovi in maniera serena, inserito in un contesto didattico, e non ci siano paure, timori, incertezze, bisogni di chiarimenti. Per cui, iniziativa domattina, qui presso la mia scuola, con il mediatore, con tutte le famiglie abbiamo invitato. Ho fatto distribuire, qui davvero ringrazio anche i miei collaboratori, la vicepreside, l'insegnante Panni, insegnanti in particolare del presso della primaria, ma anche quelli della seconda di Stefane, un documento che è stato predisposto nelle varie lingue, questo per... e su cui insisterò anche a livello di Open Day, perché è fondamentale, ripeto, che la famiglia non si trovi arresa e possa, in maniera tranquilla, agevole, nella propria lingua, conoscere quello che ha davanti. Insomma, la prevenzione di un disagio, prima ancora che il disagio si crei. Qualche altra curiosità, Nicola? Se il preside, insomma, ora sono antico io, la chiamo alla vecchia maniera, si aspetta, che tipo di risposta si aspetta, se ha delle indicazioni in questo senso, perché di iniziative di questo genere le abbiamo viste tante, però non sempre la risposta è quella attesa, insomma. Però io parto anche da quello che ho avuto come riscontro l'anno passato, perché vedevo che famiglie, ecco, mamme che mi chiedevano un appuntamento, erano quasi intimidite all'idea, insomma, di chiedermi comunque dei approfondimenti sul funzionamento della scuola. Ecco, io l'ho sempre accaduto, lo spazio in cui io insieme ai miei collaboratori, cioè, ecco, diamo la possibilità, mettendo loro a proprio agio, di favorire questa comunicazione. Che ripeto, la famiglia, ecco, di provenienza estremunitaria, di fronte a tanti timori comincia a chiudersi, comincia a isolarsi. E qui io in fondo sto insistendo, qui a Levane, anche con l'aiuto delle associazioni, della parrocchia locale, dell'amministrazione comunale, ecco, per cercare di favorire un tessuto sociale in cui le tante famiglie indiane, ad esempio, ma non solo loro, ecco, possano trovare un riferimento, possano inserirsi agevolmente, ecco, altrimenti, ripeto, purtroppo il risultato rischia di essere vero di vedere tante famiglie chiuse nella loro realtà, e però questo purtroppo poi non favorisce, certo, un senso di comunità, e anche la scuola su questo ha una, ha una sola responsabilità forte. Assolutamente, grazie mille, Greta, grazie al dirigente scolastico. Fantozzi, è questa l'idea di integrazione? Da qui allo Iuscole, quanta distanza c'è? Partendo dal presupposto che non c'è un'idea di integrazione, non c'è mai stata in questo paese, la controprova ce la dà il dirigente scolastico, o preside, visto che anch'io sono abbastanza antico, proprio per aderire a un principio di realtà. Ha visto un problema, ha palesato sostanzialmente che c'è, da parte delle istituzioni, di una certa latitanza a creare organicamente una proposta di integrazione in questo paese, e come per esperienza progressa anch'io da sindaco con una scuola media sul territorio, ci siamo accorti e sappiamo che l'integrazione vera in questo paese e anche in questa regione l'hanno fatta le scuole e le comunità locali. Cioè, nel momento in cui ci accorgiamo che non basta più passivamente che pensare che uno strumento legislativo possa risolverci il problema, qui venga un po' anche allo Iuscole, dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista fattuale, sono gli amministratori che si alzano dalla poltrona e vanno incontro alla propria cittadinanza per trasmettere l'unica idea attraverso la quale in mancanza di una più organica idea di integrazione in questo paese si possa risolvere il problema, e cioè l'idea della comunità. Inserire i ragazzi in comunità, sia attraverso la scuola, attraverso il mondo delle associazioni, ma anche attraverso gli strumenti che qualsiasi amministrazione di qualunque dimensione ha, è sicuramente un surrogato importante, mentre lo Stato e magari anche le regioni cercano di capire come svolgere il ruolo dell'integrazione. Non lo svolge la Iuscole, che può essere uno strumento, tra i tanti che si sono discussi negli ultimi 15 anni in Parlamento, senza che venisse presa una decisione, soprattutto per chi governava fino a due anni fa, il problema semmai è appunto quello di regolare l'immigrazione attraverso il regolamentare di immigrazione, capire anche che è necessario integrare la vita sociale di coloro che entrano in Italia per lavorare e costruire il proprio futuro. A quel punto si uniscono due cose, si fa un servizio al Paese perché sostanzialmente assumiamo non soltanto nuovi cittadini, ma anche nuova forza lavoro che va a integrare tutto il nostro sistema produttivo e non solo, ma al tempo stesso ricreiamo e manteniamo tutto ciò che ha fatto grande anche dal punto di vista della civiltà nel nostro Paese, che è quello di avere sempre avuto uno spirito di accoglienza che si combascia, si tramuta nella formula più bella che è quella della comunità, soprattutto quando è comunità locale o di campanili come Casa Nostra. Merletto, che ne pensa delle parole di Fantozzi ma anche dell'espressione, dell'esperienza che abbiamo raccontato, insomma, di fatto, diceva Fantozzi, hanno visto un preside, ha visto un problema, prova a risolverlo. Lo deve fare un preside o magari dovrebbero essere le istituzioni, diciamo, statali a fare una cosa del genere? Allora, come sempre o come spesso accade, poi la differenza la fanno le persone. E quindi è chiaro che avere un dirigente scolastico piuttosto che un sindaco o un consigliere regionale o un parlamentare, quindi le istituzioni, come dire, presenti fattivamente e partecipi nel ricercare soluzioni chiaramente aiuta. ma il tema è proprio, mi riallaccio al ragionamento del collega Fantozzi, proprio perché dobbiamo integrare, proprio perché dobbiamo creare comunità, fare comunità, qual è il problema che impedisce un'assunzione che è un dato di fatto? Cioè, per me, chi nasce in Italia è italiano, punto. Ma, se a questo non si arriva, troviamo una soluzione, chiamiamola mediana, ma troviamo una soluzione. Io penso che l'Olius Scola sia una soluzione che ha una sua logica e un suo senso e che favorisce l'integrazione. Non risolve i problemi ma favorisce l'integrazione perché poi alla fine il tema è che forse non tutto è stato fatto e si potrebbe fare di più anche negli anni passati, indubbiamente. Ricordo che un provvedimento era l'esame del Parlamento, ha approvato la Camera e poi non ha approvato il Senato sull'integrazione e quindi riconoscimento di un dato di fatto che nasce in Italia e l'italiano perché poi il governo è caduto e sono andate alle elezioni anticipate. Ma detto questo il tema è che se il governo attuale toglie le risorse che consentano alle comunità locali sindaci, amministrazioni, associazioni di volontariato che collaborano con l'amministrazione per dare opportunità a chi arriva e ha voglia di integrarsi, a chi arriva e ha voglia di congiungersi con la propria famiglia o chi arriva e ha voglia di portare qua la propria moglie e i propri figli di avere quegli strumenti che facilitano l'integrazione ad esempio i corsi di italiano per l'apprendimento della lingua oppure l'opportunità di imparare a prendere un mestiere. Tutto questo è stato come dire seccato perché gli è stato tolto le risorse a livello governativo e quindi c'è l'impossibilità per un'amministrazione per una situazione culturale per una situazione di volontariato una situazione sociale di poter come dire organizzare mettere in piedi corsi che favoriscano appunto l'integrazione il colpo basso si dà poi con la scuola perché se tendo a riconoscere anche che lo you school è un provvedimento di buon senso perché abbiamo bambine e bambini ragazzi e ragazze che studiano con i nostri figli e i nostri nipoti che giocano in varie sport con i nostri figli e con i nostri nipoti che escano con i nostri figli e con i nostri nipoti e che sono italiani perché parlano italiano perché conoscono le nostre abitudini e consuetudini e quindi arrivano però all'età di 18 anni e hanno una difficoltà a riconoscersi come cittadino italiano cioè da un punto di vista amministrativo e burocratico perché se per caso si dimenticano di fare la richiesta poi perdono questo diritto ed è una cosa incredibile Pantrozzi in 30 secondi la replica anche sui tagli diciamo all'associazionismo che diceva Merlotti io credo che i problemi siano più profondi e più radicati nel tempo lo dimostra il fatto che anche quando e laddove si concede la cittadinanza e la legge che è attualmente in vigore è quella che a livello europeo consente ogni anno basta vedere le statistiche il maggior numero di rilasci di cittadinanza non risolve l'integrazione noi viviamo e stiamo vivendo anche nelle nostre città toscane e non lo dico facendo la reprimenda retorica classica ma lo dico perché è un dato di fatto che ci sono comunità straniere che evitano o se possibile impediscono sostituendosi a un'integrazione nelle nostre comunità facendo un ragionamento direi passatemi il termine dal punto di vista più lessicale una questione tribale cioè ci si deve dobbiamo vivere tra di noi questo è un risultato che non ci aspettavamo ma che probabilmente poteva essere in conto messo quando un problema come l'integrazione non viene affrontato realmente concretamente è messo a sistema problema di finanziamenti si diceva sul fronte dell'integrazione il problema di finanziamenti che spesso viene tirato in ballo anche quando si parla di un altro tema che come diceva Fantozzi poco fa è sempre al centro delle cronache ovvero soprattutto nell'ultimo periodo il tema della difesa dall'acqua e la difesa dell'acqua siamo ancora una volta a raccontare in questi giorni ancora si stanno cercando due persone disperse dall'alluvione a Montecatini nella scorsa settimana anche oggi non ci sono notizie in questo senso la famiglia ha fatto addirittura il ritorno in Germania ormai le speranze ovviamente sembrano all'omicidio ma insomma mai dire mai e allora salutiamo Marco Bottino che è il presidente dell'ambito della Toscana l'associazione dei consorzi di bonifica Bottino è anche si diceva adesso una questione di finanziamenti per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio? Ma guardi è solo una questione di finanziamenti nel senso che la Toscana ha una condizione particolarmente felice ha fatto una norma la 79 del 2012 che oltre a riunire i consorzi ha consentito ai consorzi di bonifica di mettere il tributo su tutti i proprietari su tutte le proprietà immobiliari e agricole quindi noi abbiamo ogni anno circa 80 milioni di euro di tributo che riusciamo a gestire per effettuare le manutenzioni ordinarie ormai da 10 anni lo stiamo facendo e quindi molti dei territori che noi abbiamo impattato dal punto di vista della manutenzione ordinaria sono proprio in una condizione di vedere svolta la manutenzione ordinaria e quindi ha la risorsa certa per essere fatta adesso ovviamente aggiungendo il fatto che stiamo parlando soprattutto di cambiamenti climatici e di eventi meteorologici imprevisti imprevedibili e ingestibili è ovvio che dobbiamo passare a un lavoro di manutenzione straordinaria che deve avere gambe con le risorse e anche di opere strutturali mi consenta di fare un esempio nella provincia di Pistoia noi abbiamo nel corso degli anni realizzato molte casse di espansione investendo centinaia di milioni di euro sia sulla manutenzione ordinaria sia sulle opere strutturali però non abbiamo mai ricevuto i soldi necessari per rifare gli argini che sono obsoleti spesso sono argini pensili sono argini pericolosi quindi è evidente che con la pazienza del ragno dobbiamo avere a disposizione le risorse e in Toscana ci sono enti come i consorsi di bonifera sono in grado di progettare gestire e spendere queste risorse come abbiamo sempre dimostrato e piano piano facendosi da una parte riuscire a mitigare sempre di più il rischio lei calcoli però un'altra cosa nel frattempo mentre noi pensavamo questo in questi dieci anni la natura ci ha presentato un conto cioè mentre noi eravamo attenti ai corsi d'acqua principali nei tratti urbani abbiamo fatto un grande lavoro abbiamo fatto la manutenzione in montagna ecco che a ricevere enormi quantità d'acqua negli ultimi mesi negli ultimi anni sono stati in retiaco minore si pensi per esempio a quanto è successo a novembre tolta la rottura della marina a Campi Visenzio il sormonto e le sondazioni di fiumi come come il Bagnolo come i corsi d'acqua di Montale come corsi d'acqua anche una piccola parte dei corsi d'acqua riguardata quindi è una lotta che è estremamente urgente combattere per la quale non sempre serve la manutenzione ordinaria e basta e dobbiamo anche presidiare con manutenzione straordinaria e opere strutturali parte del territorio alle quali non eravamo preparati di cui non eravamo preparati al presidio presidio intendo dire una cassa d'espansione fatta in cima a un reticolo minore su una montagna che a memoria d'uomo il corso d'acqua non ha mai ricevuto una quantità d'acqua tale da esondare quindi il nemico è pericolo anche perché Bottino scusi l'esempio di Montecatino Val di Cecina la scorsa settimana è abbastanza significativo si sta parlando dello stregale che è niente praticamente sempre e che è passato da qualche centimetro d'acqua a sei metri nel giro di una manciata di ore se non di minuti insomma e allora in questo senso come si fa a livello diciamo ingegneristico a immaginare qualcosa di questo tipo e aggiungo è successo a Montecatino Val di Cecina dove sono caduti 200 e rotti millimetri di pioggia nel paese accanto ne sono caduti 5 insomma diventa complicato anche avere un qualcosa che possa prevedere tutto questo sì ho parlato di imprevedibilità naturalmente l'imprevedibilità si combatte anche con strumenti moderni tecnologici vedo che il Lamma sta pensando di sfruttare l'intelligenza artificiale ma questo ovviamente può solo prevedere non difenderci da quantità d'acqua enormi che arrivano sui territori se lei pensa nell'ultimo evento della settimana scorsa a Palazzolo sul Senio è piovuto meno ammarrati è piovuto di più ammarrati sono sullate strade si è bloccata la ferrovia quindi questo è un nemico e va combattuto con grillo come dico sempre che è come se noi dovessimo preservare ogni singolo capillare del corpo umano per la morte dell'uomo che diciamo che ha questi capillari nel corpo mentre noi prima eravamo dedicati alle arterie quindi ai grandi ai grandi fiumi ah guardi Fantozzi sta ridendo quando ride pensa lo abbiamo imparato lo stavo ridendo lo abbiamo imparato prima stavo sorridendo stavo sorridendo quando sorride pensa Dottor Bottino buonasera cosa stava pensando Fantozzi stavo pensando a Dottor Bottino non stavo assolutamente ridendo stavo sorridendo stavo sorridendo stavolta domenica ci aspetta una grande tornata elettorale all'interno dei consorzi di bonifica speriamo che sia anche un modo per avvicinare un attimo la visione che il Toscano ha dei consorzi di bonifica perché se non ripartiamo anche da una rilettura dell'importanza delle risorse che gestiscono i consorzi di bonifica probabilmente andiamo poco lontano quindi lo dico prodomo i consorzi di bonifica quindi a onere del Dottor Bottino cosa penso penso che ci sono tre ingredienti con cui non affrontare il problema l'ideologia in tema ambientale che è assolutamente qualcosa che non va bene pensare di poter avere risorse illimitate perché questo delle risorse illimitate soprattutto quando le deve dare il governo centrale soprattutto se governasse in quel caso il centro-destra credo che sia un principio che non applica più nessun tipo di governo sul pianeta Terra sostanzialmente e la terza è mettere la sottolineatura il grassetto il corsivo a una delle parole che ha usato il Dottor Bottino che è la prevenzione per quanto non si possa prevedere tutto senza dare troppa sostanzialmente colpa al cambiamento senza eccedere nell'idea che il cambiamento climatico in qualche modo ci salvi dalle responsabilità di ciascuno nei propri ruoli credo che sia opportuno andare a rivedere la prevenzione ma cosa c'è che aiuta i toscani in questo caso aiuta che per esempio in regione toscana c'è una commissione di inchiesta in questo momento che è preceduta dalla mia collega Elisa Tozzi che nei lavori anche per dare un senso a questo tipo di risposta a questo tipo di commissione sta rimettendo sul pulito ciò che negli ultimi vent'anni almeno era in programmazione per quanto riguarda la difesa e la tutela del territorio anche dal rischio idrogeologico che è uno dei grandi rischi che ha il territorio speriamo quindi come anche qui come posizione costruttiva di portare un valore aggiunto in modo da poter sostanzialmente arrivare dove appunto a fare in modo che la prevenzione sia non anche qui l'intuito brillante di un presidente del consorzio o di un sindaco che si accorge che qualcosa non va e ci va a mettere riparo ma sia all'interno di un sistema di prevenzione regionale che oggi non abbiamo che stentiamo a vedere e che vorremmo vedere nascere magari unendo le forze con tutte le forze politiche che sono rappresentate oggi all'interno di un'area anche in questo caso si prova a fare quadrato Merlotti o c'è l'ideologia come dice Fantozzi? no su questi temi l'ideologia è proprio ciò che non occorre è quello da cui dobbiamo difenderci perché l'ideologia in genere è sempre come dire portatrice di eventi poi futuri anche nefasti dobbiamo essere pragmatici pratici e concreti e io saluto e ringrazio l'ingegnere Bottino per la sua presenza qui e apprezzo quando lui è chiamato a venire in commissione la quarta quella di cui vi faccio parte perché dà sempre delle spiegazioni molto precise e molto puntuali il tema lo ha detto prima lei lo ha inquadrato bene il presidente l'ingegnere Bottino è quello di eventi atmosferici come dire localizzati in una piccola porzione di territorio in un fazzoletto di territorio che scatenano in poche ore a volte anche in un'ora una quantità di acqua che non è come dire attesa non è possibile come dire regimentare perché è ampia è talmente come dire potente e forte che è difficile come dire riuscire a contenerla in più si parla appunto come diceva l'ingegnere condivido in un ridicolo minore che va chiaramente manutento che va chiaramente controllato che deve essere come dire evidentemente ampliato nelle proprie portate ma voglio dire a Bolgheri o Cassetto Carducci conosciamo tutti quel territorio almeno qui noi fra i presenti cioè come dire è immaginabile dire che c'è l'incuria in quel territorio che è un territorio in cui l'abusivismo la fa da padrone no non è pensabile il punto è che lì abbiamo una serie di canali a volte fossi come le definiva mio nonno quando andava nell'orto e mi portava un secchio piccolino che oggi quella portata di acqua non la possono leggere tant'è che proprio lì in quella zona abbiamo avuto il Cecina che ha come dire salito sì di livello ma non ha come dire mai creato preoccupazione o dato il senso di pericolo ai tecnici che lo monitoravano mentre invece a pochi chilometri di distanza è successo il Finimondo ma quest'estate sono stato testimone io a Castiglioncello comune di Rosignano è venuto giù il Finimondo facendo danni enormi agli automobili agli stabilimenti balneari alle case degli abitanti quando invece a Vada o al confine con Cecina alla Mazzanta non ha tirato neanche un goccio d'acqua eppure Castiglioncello rispetto alla Mazzanta o Vada è a 5 o 8 chilometri per dire questo sicuramente però non ci deve come dire giustificare assolutamente come diceva l'ingegnere dobbiamo occuparci della questione dobbiamo lavorare e dobbiamo fare quello che abbiamo fatto negli anni passati per mettere in sicurezza i grandi fiumi pensa all'anno su tutti e ancora non è finita e ancora non è finita però come dire dobbiamo andare a mantenere quel livello sui grandi fiumi sulle grandi portate di acqua ma al tempo stesso pensare che il ridicolo minore difficilmente può contenere quelle quantità di acqua e quindi prevenire avere studi diciamo importanti da parte dell'AMMA che ci possono dare indicazioni ancora più precise e puntuali su dove possono essere le criticità per allertare anche la popolazione poi c'è un tema anche culturale perché quando piove così tanto ci sono persone ahimè purtroppo che pensano di scappare mettendosi in macchina piuttosto che salire al terzo o quarto piano della nuova abitazione perché il prioritario è salvare sempre le vite umane perché il dramma è che a Montenegro e a Valdeciagina sono morte due persone ancora non lo diciamo ufficialmente non lo diciamo ufficialmente ma questa è la realtà siamo davvero in conclusione soltanto in un flash Bottino non rischiamo di arrivare sempre troppo tardi in questo senso? ma diciamo questo mi fa piacere l'uniformità delle opinioni dei vostri due consiglieri regionali partiti opposti è evidente che c'è una cosa che può farci arrivare puntuale alla parola prevenzione del consigliere Fantozzi unisco la parola programmazione noi abbiamo progetti pronti potremmo e vorremmo realizzarli come ne facciamo ne realizziamo tanti evidentemente se i soldi quest'anno ci sono e l'anno prossimo no è un problema quindi bisogna che i cittadini le forze politiche le amministrazioni e i consorzi di Bonifia insieme mettano nell'agenda del governo dei governi perché per essere chiari di questo tema non è mai importato molto a nessuno mettere nell'agenda dei governi che questa per loro è una priorità e con una battuta è una priorità che spesso e volentieri i cittadini si sono creati visto l'antropizzazione e l'urbanizzazione dei nostri territori che spesso e volentieri è la causa principale delle esondazioni e che spesso e volentieri però viene come la polvere messa sotto il tappeto e giustamente non viene tenuta in considerazione perché lo sviluppo porta ricchezza le imprese portano ricchezza la bidrottura porta ricchezza una società moderna deve cercare di gestire i territori che si è creata ma il lavoro e i fondi necessari sono molti molti di più anche perché tutti quei fossi e quei corsi d'acqua tombati che abbiamo in Toscana soprattutto in alcune zone della nostra regione insomma prima o poi inevitabilmente il destino ci presenta il conto grazie Bottino grazie Fantozzi grazie a Fausto Merlotti e ovviamente temi dei quali torneremo a parlare nel corso delle nostre puntate diamo la linea alla regia e tra poco parliamo di sociale insomma con un altro ospite tra pochissimo grazie a tutti grazie a tutti